Quanto è bello il calcio mercato, infatti adesso mi trovo a commentare ben due trasferimenti, il primo quello di Radu Dragugin che insomma il Tottenham soprattutto nella corsa e quindi il rumeno dovrebbe approdare l'Inghilterra e il secondo quello di Thiago Jalò che dovrebbe, salvo insomma in toppi dell'ultima ora, approdare la Juventus e parleremo un pochino di cifre e voci un pochino contrastanti su questo trasferimento vi darò anche un po' la mia impressione insomma sulla bontà dei trasferimenti stessi. Partiamo dal primo, Radu Dragugin che dovrebbe trasferirsi al Tottenham per una cifra pari a 25 milioni di euro più 5 di bonus più il trasferimento in Liguria di Jed Spence, terzino destro che in questa stagione ha militato nel Leeds in Championship, ma di Spence non parlerò in questo video perché poi andrò a fare un video correlato quindi il discorso di Dragugin che si va a trasferire appunto in Inghilterra, il tutto appunto per una cifra molto elevata in queste ore si erano fatti nomi di tante squadre entrate in bagarre, quantomeno apparentemente per il giocatore si parlava anche di Bayern di Monaco, di Napoli, di Milan, ma alla fine il Tottenham è quello che ha avuto la meglio, quantomeno al 99% diciamo così, appunto anche perché comunque sta la prima squadra che si è interessata in modo concreto sul giocatore un giocatore che si è trasferito per meno di 7.5 milioni di euro dalla Juventus al Genoa nell'estate 2022, quantomeno a titolo definitivo ma la Juventus sembra che sia riservata anche 11% sulla futura rivendita quindi un po' di soldini la Juventus incamererà appunto da questa cessione ecco perché ho voluto fare questo video di link tra due possibili al 99% diciamo così trasferimenti perché in un qualche modo sono molto correlati il Genoa adesso insomma in questa difesa 3 va a perdere l'elemento più importante ovviamente entreranno soldi o quantomeno una cifra molto importante il Genoa di contro va a coprire un buco quantomeno a livello di qualità ma comunque anche di numerico perché comunque se non ricordo male FT è stato ucciduto per circa 3 milioni di euro al Montpellier quindi vai a ricoprire con un giocatore rientrato in una trattativa un buco che ti sei venuto a creare anche perché voglio dire con tutto rispetto per Sabelli ma non lo ritengo un giocatore abile arruolabile al 100% per la Serie A è un buon gregario ma quello può fare di Jaspens ripeto non parlerò farò un video dedicato a parte ma ripeto con questa cifra sono veramente tantissimo curioso di vedere come verrà impiegata il Genoa perché ragazzi adesso il Genoa è chiamato a sostituire una pedina molto 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 importante io veramente sono tanto curioso in primis perché mi fido mi piace insomma questo progetto di 777 partners ma ripeto il Genoa che sta andando bene deve prendere un signor difensore centrale magari anche un giovane un 2001, un 2002, un 2000, un 2003 però che abbia rendimento che sappia assicurare un rendimento ottimale e sono veramente tanto 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 curioso insomma un buon trasferimento per il giocatore perché insomma andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro nette a stagione ovviamente e va a rinforzare una difesa che è già forte così in quanto meno riparto di centrale difesa perché comunque conta Romero Davis Dyer lo stesso Dragusin e un quinto io non ricordo il nome però c'è il discorso che per Dyer si era fatto sotto il Bayer Monaco quindi che è successo il Bayer Monaco a un certo punto era indeciso tra Dyer e Dragusin sembra avere optato per Dragusin però poi il Tottenham ha avuto la meglio e quindi adesso che Dragusin andrà al Tottenham probabilmente il Bayer Monaco tornerà alla carica per Dragusin voglio anche dirvi il quinto difensore Van de Ven ecco mi scordavo l'olandesone volante e quindi insomma questi cinque difensori centrali secondo me uno andrà comunque ceduto poi d'accordo Romero ancora riprese con lo stiramento la coscia quindi in ultima partita addirittura ha giocato Emerson Royale come centri di difesa per farvi capire un pochino il mood del Tottenham e la situazione del Tottenham adesso ma ripeto il Tottenham si va a rinforzare il Genoa va a incassare e ora deve investire bene sicuramente sulla fascia destra il Genoa va a incrementare la sua qualità la sua felicità e la sua corsa ora parliamo della Juventus anche qui un mistero per quanto riguarda le cifre c'è chi parla di 2 milioni e mezzo di euro c'è chi parla di 3 milioni di euro più 500 mila euro di bonus c'è chi parla addirittura di come la Gazzetta dello Sport 3.5 milioni di euro che tra bonus e percentuali di futuri vendite può arrivare a 6-7 milioni insomma la realtà dei fatti si conoscerà quando verrà fatto il comunicato dal club dove la Juventus dichiarerà esattamente la cifra di trasferimento e penso che sia l'unica fonte attendibile al 100% cioè la Juventus deve dichiarare un po' tutto quanto quindi insomma si starà a vedere però insomma in questo modo la Juventus in primis si pagherebbe il trasferimento con la percentuale del 10% che appunto ricaverebbe dall'accessione di Dragucin al Tottenham e dall'accessione di Filippo Ranocchia che rientra in prestito dall'Empoli e poi verrebbe dirottato in prestito squadre a titolo definitivo al Palermo per una cifra attorno ai 3.5 milioni di euro ma comunque in questo modo la Juventus brucia la concorrenza l'Inter che si era fatta avanti con Lione per un trasferimento a zero a fine campionato ovviamente il Lione non avrebbe secondo me detto di no o meglio la squadra di appartenza di Jalò mi confondo sempre tra Lille e Lione dovrebbe essere Lille comunque insomma il discorso di Jalò in primis ti ha permesso di bruciare l'Inter seconda cosa un giocatore che sicuramente dovrà riprendersi l'infortunio accrociato nel marzo 2023 ma che comunque ti dà una possibilità di sostituire al meglio Alexandro che non rinnoverà a fine anno e che comunque libera la Juventus di un ingaggio molto sostanzioso un giocatore che fondamentalmente ha ben nove anni in meno essendo appunto un 2000 e Alexandro un 91 e vediamo un pochino il giocatore insomma non tanto parlando del giocatore stesso ma come lo si può contestualizzare una Juventus anche perché lui è un destro di piede che però gioca sulla parte sinistra del campo e questo insomma è un qualcosa che non dico che può dare da pensare ma può suscitare qualche dubbio io in qualche video fa parlando appunto di Caceres di Sebastiano Caceres al Torino probabile obiettivo del Torino avevo detto se dovesse giocare come centrale di sinistra nella difesa 3 non conta tanto il fatto che sia un puro mancino o no ma come utilizza il mancino e che stile di gioco attua il giocatore stesso lui fondamentalmente è appunto un destro che gioca sulla parte sinistra del campo fondamentalmente in mente col portogallo gioca sulla parte destra in primis è un giocatore veramente tanto d'utile che può fare l'esterno di sinistra che può fare il braccetto di sinistra ma che di contro può fare anche il braccetto di destra e l'esterno tutta fascia a destra ma appunto questa è la chiave di lettura del trasferimento di Jalot la duttilità come cambiaso ad esempio che può fare il quarto basso l'esterno tutta fascia a destra a sinistra ma lo stesso O.A che può fare l'esterno alto ti può fare l'esterno a tutta fascia ha fatto anche il terzino sia a destra che a sinistra quindi fondamentalmente Allegri sta trovando questo tipo di chiave di lettura nella Juventus quindi la duttilità sulla parte sinistra del campo del centro sinistra del campo mi sono posto appunto la domanda perché un difensore come Jalot preferisce giocare da quel punto di vista o meglio in quella parte di campo pochi sono stati i destri che si trovavano bene a sinistra ad esempio un Maldini ad esempio un Zambrotta perché fondamentalmente Jalot è come se fosse un braccetto ma inteso come regista difensivo a lui piace giocare pronto al campo ok in modo che ha tanti metri di visione sul campo e può decidere la giocata grazie alla sua prompenza fisica sia avanzare palla al piede sia tentare il cambio campo sia appoggiare verso il centrocampista o magari cambiando posto del corpo sia allargare sulla diciamo sull'esterno e sinistra o comunque su chi gioca a sinistra della squadra quindi per questo è un un qualcosa che potrebbe essere molto funzionale a Juventus e sviluppa la manovra in modo diverso da Danilo Danilo è uno che avanza palla al piede col destro quando gioca sulla parte del centrosinistra del campo ma più ha la bastoni quindi dritto per dritto io vado avanti ma in quel caso per un destro che non è 100% confident col sinistro è un tipo d'uscita un po' più problematica perché poi incorri in errore mentre Jalot ha la posizione del corpo un po' più interna sul campo in modo che può gestire la palla col destro senza problemi al netto che comunque il sinistro lo utilizza comunque meno del destro ma lo utilizza in fase di cross di passaggio e anche di intervento basso e per chi insomma magari ha giocato a calcio e ha giocato sulla fascia del piede opposto sa quanto è difficile effettuare un intervento basso quando la gamba che è in alto è la tua gamba debole proprio un un problema di coordinazione perché non ti è naturale Jalot questa cosa l'ha sviluppata quindi anche gli interventi bassi questo cosa parte il centro-sinistra magari deve intervenire in scivolata per un cross non ha problemi a mettere la gamba sinistra in alto e insomma è veramente complicata come cosa bisogna lavorare dal punto di vista coordinativo e il gioco da questo punto di vista è ottimale di contro faccia un piccolo link al discorso dell'infortunio di questa rottura al crociato e ha parlato anche il suo responsabile dell'isokinetic tencone facendo anche un parallelismo con chiesa ok il discorso di Jalot è in primis che un intervento al crociato un rottore del crociato è sempre molto 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 dedicata di contro a me cosa fa sperare bene il discorso che il suo stile di gioco non si basa su certi movimenti del ginocchio quindi il ginocchio è un po' meno sollicitato al di là insomma del discorso della corsa della velocità della siccità e tutto quanto ma in primi siamo nel 2024 quindi le tecniche sono veramente affinate in più ha delle caratteristiche che non portano a una grande sollecitazione del ginocchio nel senso rompersi il ginocchio per quando tu metti il piede male sul terreno e quindi è un discorso di casualità è diverso ovviamente intendo non rompersi il ginocchio ma rompersi il legamento crociato è una casualità in questa fattispecie diverso è se ti rompi il ginocchio se ti rompi il legamento durante un movimento sovente che si effettua spesso da parte del calciatore ecco qui chiesa ora non mi ricordo onestamente in che eventualità giallo si sia rotto il crociato ma giallo non ha uno stile di gioco che si basa sul cambio di direzione sull'esplosività magari sull'esplosività un pochino sì ma non sul cambio di direzione un chiese invece che magari ha avuto quel movimento anomalo quando se non ricordo male era in caduta contro a Roma ma comunque il suo stile di gioco si basa anche sulla forza dei legamenti si basa sulla reattività dei legamenti ecco perché molte volte deve anche riposare chiesa perché quel ginocchio non va stressato troppo ecco secondo me appunto perché un chiesa è più a rischio recidiva piuttosto che uno giallo al di là del discorso che si è parlato del prestito per farlo giocare ambientare in serie A secondo me non andrà in prestito la Juventus la razza del trasferimento che la Juventus ha voluto prendere un giocatore classe 2000 quindi giovane da far ambientare in questi mesi magari da far esordire nei prossimi mesi che possa essere marzo aprile fine febbraio magari giocare anche quei 5-10 minuti fargli sentire l'odore del campo fargli sentire l'odore del club fargli sentire l'odore dell'aspirazione del club e poi avere un giocatore pronto già dal 1 luglio 2024 2024 quando Alessandro andrà via tu hai già un giocatore che nei mesi prima si è adattato in modo un po' più sostanzioso al calcio italiano quindi non lo prendi a zero e magari fargli fare la preparazione e magari farlo ambientare totalmente in questo calcio pensieri è un giocatore già pronto mossa molto intelligente con un esborso che fondamentalmente è a zero nel senso che comunque tu ci tirano occhia a 3-3,5 tu prendi giallo a 2.5 3-3,5 quello che siano ecco che comunque mantieni il rispetto all'indice di liquidità e in questo modo un giocatore che già dal 1 luglio 2024 ti sarà pronto queste sono le mie chiavi di lettura fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate vi mando al bracione e ciao al prossimo video ciao ragazzi